devo ringraziare in effetti una segnalazione per il tema di cui stiamo per parlare adesso ovvero quella di un ufficio stampa che è molto attivo che insomma conosciamo bene e che a un certo punto nominiamo vorrei tanto se me lo ricordassi molto volentieri grazie a tutti gli uffici stampa in ascolto nel frattempo lo vai a cercare che mi ha mandato questa mail ovviamente fra le varie che mandano gli uffici stampa e io sono rimasta colpita devo dire dal titolo così senza neanche ben anzi sicuramente senza conoscere la storia di questo film il titolo in questione è la bambina segreta e mi sono detta ma che sarà mai per lì mi sembrava un film d'animazione perché ha un nome da film d'animazione un titolo che poteva essere l'ufficio stampa di milla macchiavelli se cerchi la bambina segreta su ibs o sui portali generali che vendono tv di libri escono almeno tre titoli e non siamo non sono quelli di cui parleremo adesso sono c'è un libro almeno è un titolo insomma appunto che può lasciare adito insomma grandi varietà di contenuti e in questo caso è invece un film di alias gari che arriva nelle sale domani 19 settembre distribuito da cine club internazionale distribuzione un film che ha il parlocinio di amnesty international e il 19 settembre è una data importante perché è l'anniversario della morte di masamini e la donna iraniana che è deceduta diciamo siamo vicini in realtà è deceduta il 16 settembre nel 2022 quindi sono passati due anni tra l'altro non a caso in questi giorni stavo leggendo per il gruppo di lettura un libro che si intitola nelle strade di teheran di nila che pubblicato da feltrinelli e che racconta anche anzi racconta spiega un po quello che c'è dietro proprio l'anima delle proteste in iran e ovviamente cita masamini questo questo film che insomma vi consiglio di approfittare di vedere in questi giorni di cinema racconta di una donna una donna ovviamente siamo in siamo in iran effettivamente esattamente a teheran esatto è una ragazza madre una ragazza che è appunto madre ma questa cosa che sia madre la sanno non tantissime persone cioè qualcuno la sa lo sa ovviamente le persone la sanno le persone che vivono nel suo condominio la sa una sua amica ma per esempio i suoi genitori non lo sanno e lo scopriamo subito all'inizio della scena e lo scopriamo ed è per questo che segreta no questa bimba lo scopriamo quando squilla il telefono della casa di questa ragazza di questa madre di questa famiglia e dall'altra parte della cornetta c'è i genitori la madre dice tra sei ore siamo a casa come a casa stiamo arrivando ti veniamo a trovare ti veniamo a trovare sta parlando soltanto alla figlia veniamo a teheran dovremmo arrivare tra sei ore più o meno quindi se ci puoi venire a prendere l'aeroporto insomma una situazione perché c'è stato mi pare un incidente di un familiare loro vengono a trovare insomma comunque c'è stato una cosa in emergenza i genitori piombano in casa esatto ma come fai a tenere queste ore che diciamo aspetta i genitori deve piazzare questa bambina che non deve essere scoperta dai genitori voi direte perché non deve essere scoperta innanzitutto perché è una bambina nata da un rapporto non ufficiale quindi è praticamente illegale in iran ecco e in più credo che insomma ci sia anzi sicuramente c'è una grossa componente di repressione diciamo religiosa morale no nei confronti della paura ecco nei confronti dei propri genitori rispetto a questo tipo di ambiente e quello che lei fa oltre a iniziare a mettere via tutte le cose della bambina è cercare un posto dove metterle perché chiunque abbia un figlio anche in una situazione magari non particolarmente rosea dal punto di vista economico però ha ben chiaro quanta roba c'è attorno al neonato già soltanto chiudere il passeggino e passeggino e lettino e pannolini insomma lei deve sistemare tutto deve fare in modo che questa bambina non sia mai esistita per quelle ore in cui i genitori sono lì voi direte ma una trama un po misera in realtà non succedono effettivamente tante cose in questo film però l'atmosfera di ansia che si crea attorno a questa cosa e a un certo punto una sua amica cerca di aiutarle quindi loro girano vagano per tutte le persone che conoscono e tutte le situazioni che gli vengono in mente per poter piazzare questa bambina e come potrete intuire non scendendo troppo nei dettagli non è non sarà una cosa facile anzi tutto diciamo rema contro questa donna da tutti i punti di vista dal punto di vista morale perché tutti la guardano un po strano dal punto di vista del io mi occupo solo del mio articello e non del tuo per cui tutti quanti non vogliono che le cose e la bambina occupino il loro spazio e quindi lei deve trovare una sistemazione per questa bambina è un film appunto molto semplice di una durata assolutamente contenuta mi pare sia un'ora e mezza una cosa simile 86 minuti ma soprattutto il contesto il luogo i luoghi in cui le due personaggi si muovono fanno questo film rendono questo film veramente un thriller praticamente sì è qualcosa di molto molto particolare è stato presentato nella sezione panorama al festival di berlino del 2022 è il secondo lungometraggio di alias gari questo il primo cronologicamente primo cronologicamente sì il secondo diciamo ne ha fatti due ecco questo intendo dire alias gari tra l'altro non se la passa benissimo diciamo in quanto regista all'interno di un di un regime di un regime autoritario e infatti diciamo che viene considerato un po un non so come dire un regista di opposizione ma per lì in realtà si fa si fa molto facilmente a diventare un regista di opposizione facendo una cosa qualsiasi che non sia propaganda credo no allora visto che appunto abbiamo calcato la mano sul contesto il contesto di la bambina segreta in originale territorial versus ovvero nella nella titolo ufficiale della distribuzione internazionale la bambina segreta è tra l'altro stato presentato come cortometraggio a venezia e ha vinto anche un premio questa idea di questo corto è stata ampliata andando anche in verso una direzione leggermente più ottimista nel 2022 proprio all'alba della delle tensioni e degli scontri e delle rivolte donna vita libertà che appunto abbiamo raccontato prima che dall'altro punto sono raccontate nel libro che vi dicevo nelle strade iterano è proprio un racconto di queste rivolte il discorso cinematografico anche la lentezza con cui arrivano certi film a noi raccontano anche cioè ci fanno vedere anche come se fossero una capsula del tempo quello che è stato appena prima ma non attraverso resoconti proprio guardando le città ciò che succede ciò che anche appunto i luoghi che attraversano i personaggi le personaggi di questo film si vede una terana un po' ghiacciata un po sicuramente paranoica sicuramente molto tesa l'ambiente ma appunto noi siamo addosso al film addosso alla storia addosso questa coppia questa madre questa figlia che in qualche modo devono assolutamente risolvere il problema in un modo dell'alto si arriva anche poi appunto se ci pensate è un problema che a noi sembra sì no ma che a noi sembra assurdo cioè nascondere una bambina ai propri nonni cioè lei si deve fa questa fatica enorme si sbatte va in giro per tutta terana per fare una cosa che gran parte delle persone non farebbe e perché lo deve fare perché un contesto politico è anche una un contesto politico piuttosto netto una cosa del genere la considera un reato un peccato e quindi sarebbe la condanna oltre che lonta per la famiglia vi consiglio di andare a recuperare un'intervista che trovate sulla rivista online gli asini gli asini rivista punto org un'intervista proprio alias gari di aprile del 2024 l'autorema olizio braucci in cui insomma si fanno un po di domande anche molto semplici la prima domanda è come vanno le cose per un regista che vive a teheran quando è stata fatta questa intervista 14 aprile 2024 sì adesso quindi l'aprile scorso lui è un tra l'altro asgari ha studiato a roma poi è tornato in iran e lui dice risponde a questa domanda posso dire che il cinema indipendente in iran non esiste più e a teheran adesso esiste il cinema underground se vuoi fare qualcosa fuori dal controllo governativo la devi fare così altrimenti quello giustamente l'intervistatore gli chiede come esercitano questo controllo e asgari risponde la prima fase quando devi presentare la sceneggiatura al governo a un ufficio del ministro della cultura che poi alla fine il ministro della censura dove controllano e la loro censura funziona in modo assurdo hanno un giudizio per ogni cosa anche su quelle che tu pensi non abbiano a che fare con la politica mentre invece per loro ce l'hanno quindi insomma parte tutto da lì e poi tutto rimane sotto controllo diciamo il film underground dice se fai un film underground puoi parlare di quello che vuoi se riesci a girarlo ma dopo ci sono delle conseguenze come nel mio caso il film presentato a can il film presentato a can è kafka a teheran che dovrebbe uscire il 5 ottobre in italia sempre grazie a una distribuzione indipendente grazie che portano questi film bisogna andarli a prendere a cercare ma è anche una una produzione più attiva meglio che cosa è successo dopo che ali asgari ha presentato kafka a teheran senza le dovute i dovuti permessi allora cosa è successo quando lo dice lui quando a luglio dell'anno scorso sono tornato in iran dopo aver presentato a can nella sezione ansietta al regard il film appunto kafka a teheran appena sbarcato dall'aereo mi hanno sequestrato il passaporto il cellulare e il computer tra l'altro teresa alversis e kafka a teheran non è questo nella bambina segreta non solo a lui ma anche all'attrice al produttore e altri della troupe sono stati interrogati ci hanno chiesto perché avevamo fatto quel film hanno avviato la procedura alla fine hanno paura che attraverso di noi ci siamo degli stranieri che vogliono distruggere il paese vabbè cosa succede nella pratica che in realtà poi lui mi sembra di aver capito che malgrado le restrizioni può avere dei permessi per viaggiare questo perché perché l'eggime islamico cerca di dare un'immagine democratica e allo stesso tempo vigilare su tutto può quindi insomma lui può però ecco qualcuno può dirgli ma potrebbero anche dirgli no e ciò giudo mi dispiace no vabbè questa è sempre la settimana la puntata che sarebbe di ascoltare che stai ascoltando sarà abbastanza improntata sul sul film che hanno questo questo contesto forte il la bambina segreta mi ha ricordato anche molto un film che è passato sfortunatamente durante il il covid è arrivato in italia come mai raramente a volte sempre ed è tra l'altro un film molto molto forte ma che ci porta dall'altra parte del planisfero sul diritto d'aborto una autun è la storia di autun che a 17 anni vive in pennsylvania quindi usa usa pennsylvania uno degli stati cardine della campagna elettorale se non ricordo male tra l'altro e ha una gravidanza indesiderata e decide di vuole interrompere la gravidanza cosa succede è veramente un inferno portare a termine questo questo desiderio esaurire questo desiderio ma appunto non stiamo parlando dell'iranno o del ideale terzo mondo quarto mondo siamo in usa e le cose sono dal 2020 in anno di realizzazione di questo film mai raramente a volte sempre sono ancora peggiorate quindi se il contesto è anche l'ambientazione il titolo riprende diciamo le risposte dei questionari dei questionari fissi che ti danno in cui tu devi rispondere in base ad un livello che può essere mai raramente a volte sempre un film del 2020 quindi in realtà anche precedente al se non sbaglio no uno se non sbaglio al rovesciamento della roves suede credo di sì tra l'altro pensa un po se invece l'argomento è per voi ostico un po stile o vi in qualche modo eh sì 2022 quindi sì vi vi stimola pensieri non non gradevoli non che non accettate ci sta vi consiglio un film di genere ma torniamo in in iran esattamente il stiamo parlando del film only spider che è un noir è letteralmente un'indagine ed è la storia di una giornalista che indaga su un serial killer di donne una serie di omicidi no di donne se non sbaglio sì sì e il serial killer è la prima cosa che noi spettatori conosciamo sì 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 quindi vi abbiamo citato diversi titoli se volete recuperarli troverete la video recensione di questo film che troverete al cinema da domani ve lo consigliamo veramente tanto il il film ve lo ripeto sono questo e i seguenti sono da andare a prendere come quando appunto andate a prendere un una torta in quella pasticceria buonissima oppure andate a comprare i fiori al mercato la mattina quelli che proprio volete che piacciono proprio a quella persona che state pensando ecco andate a cercare questi film e fatevi questo regalo perché ne vale veramente la pena e poi appunto dal punto di vista del minutaggio leggerissimo certo poi avete bisogno di un po di tempo per decomprimere non è spider man contro superman per con tutto il bene verso spider man e verso superman però avete bisogno di digerirli e vi farà bene questo è la recensione di una bambina segreta la bambina segreta ne parleremo con nola in futuro lo sentiremo la settimana prossima chissà intanto l'avete sentito qui questa è patrizia la guidara un po di tempo Grazie a tutti.